Minchia tutto direttamente Cioè per cambiamento cazzo dovrà venire Penso che poi tu tagli Penso che poi farai dei tagli Il montaggio lo farà Mario Cerdita ha pubblicato un posto di 6 ore Non è bello che il Vip la potermi permettere una GFG Minchia che la vado a regalare C'ho andato Ovviamente io non faccio finta di essere povero Io sono Io sono povero Io faccio finta di essere ricco Ciao